Ragazzi prima che inizia questo video voglio assolutamente dirvi che l'ultima parte di questo video non so per quale motivo è andato danneggiato Quindi se vedete che il video finisce di botto così non preoccupatevi ma è per questo motivo Comunque niente, spero che questo video vi piaccia davvero perché ho avuto una botta di sedere ragazzi a livelli proprio mondiali Facciamo arrivare questo video a 40 like minimo ragazzi E niente, buona visione Ciao ragazzi benvenuti sul mio canale youtube Oggi come avete letto dal titolo siamo una partita con Bistard ragazzi Eccolo qua, Be Crazy Youtube, eccolo qua Siamo nell'aeropresidenziale Raga sono riuscito a registrare, sono contentissimo Porca vacca sto stupido Cioè ragazzi sono troppo emozionato 5 secondi e partiamo, vai al portello principale Ho preso Ash Eccolo Bistard là in fondo Noi andiamo a vedere che cosa sta facendo Ah no però se ne viene da qua Vabbè a noi non ci interessa Allora ragazzi cerchiamo di fare una bella figura Ho già Salutiamo Bistard Vabbè comunque Pensiamo a fare la partita raga Eeeh Veramente epocale Abbiamo, ho già fatto un'altra partita prima Però non sono riuscito a registrarla Cioè ho registrato soltanto dal tasto share Perché la cosa era tutta quanta Qua non c'è nessuno Giustamente Eeeh Beh Hola Qua sono montagne Bistard Grande prova Allora con calma Che sono di sopra Piano raga Piano raga Attenzione Me Hola Vai avanti te Molto bene Porca vacca raga Dai come ha fatto Poi dici che hanno hanno soldi fucile a pompa Ecco il risultato Come cavolo hanno fatto Ed eccoci di nuovo qua ho preso valchire raga Eccoci qua Allora Vediamo qua Una qua Poi andiamo a posizionarne un'altra di qua raga Così Una qua Qua rinforziamo le pareti Vi voglio far vedere questa partita per l'intero ragazzi Non voglio far vedere Neanche un secondo Allora Allora Posizione contenitore di biorizio ignota Ma come ignota Ah qua già l'ho messa Molto bene E mettiamola là Allora Mettiamo un attimo le telecamere Che cavolo Dov'è Da qua Arriva qualcuno Perfetto La situazione si sta facendo complicata Perché non vediamo nessuno Porca vacca raga Siamo nell'ufficio presidenziale Non vedo nessuno Attenzione Il nemico sta prendendo il contenitore Ma come il nemico sta prendendo Porca vacca Come Contenitore di biorizio in mano nemica Missione di difesa fallita Ma Ma doi Non ci voglio credere Eccoci di nuovo qua raga Siamo al portellone principale Però non voglio salire Perché qualcuno di solito Eccolo là infatti Eccolo là Eh ma non sciocca Porca vacca raga Dovevo prendere glaz Prossimo round Prenderemo assolutamente glaz Raga Attenzione Corso bene Sto facendo letteralmente schifo in questa partita Comunque Perfetto Qua hanno spaccato Ma voi siete pazzi Qualcuno arriva da sopra Bastarda da dietro Lo sapevo io Attenzione Forza vacca Ferimento Attività nemica Neutralizzate la minaccia Un solo difensore rimasto Ete mori Ete mori Dov'era Cacca L'ho visto dal mezzo là Che bastardo Grandissimo il mio compagno Ed eccoci di nuovo qua Ho preso il dottore raga Qua copriamo Per bene Eeeh Ho preso il dottore Perché Ho preso una nuova skin Guardate che figa raga Uh Ah ok Perfetto Uh Ette mori Ora Perfetto raga Face d'attacco Qua rinforziamo Così Ok Perfetto Bastard è morto Ma se Si riva a sfidare lui E' chiaro Molto bene Anche lui è morto Perfetto Quello è morto Resta solo un operatore alleato Quello pure è morto Ah Non va assolutamente bene raga Perfetto Perfetto Per l'altro è morto Ah Bastardo C'è Blackbeard Per l'altro è morto Ragazzi C'è Thatcher Eh ragazzi Mi ha distrutto Non c'è niente da fare Bastardo che non sei alto Mi dovevo alzare prima Eh vabbè È andata così Ed eccoci di nuovo qua raga Mi sono dimenticato ovviamente di Glaz Perché già se l'era preso Bistar Attenzione C'è nessuno Eh ragazzi ragazzi Molto bene Dai che ci possiamo portare a casa la partita Dai Andiamo avanti con il drone raga E vediamo un po' dove sono i maledetti I maledetti bastardi I maledetti maledetti bastardi Raga Uh eccoli Eccoli Peggiore Grandissimo Vai vista Vediamo che dice il drone Non c'è nessuno Ok Ok Ah ma non posso entrare Qua rompiamo tutto raga Perfetto Perfetto Attenzione Perfetto Perfetto Ottenete il contenitore Lasciate perdere il contenitore No L'ho ferito Prendete il contenitore di biorì Bastardo L'ho ferito Aiuto Pesta Grandissimo E l'ho ucciso Ed eccoci nuovamente qua ragazzi Ho già posizionato le telecamere in modo da Grazie Ah perfetto Mio amico Ogni tanto arrivano dei messaggi di raga Ma non fa niente Qua c'è sempre di start con noi Eccolo qua Ha preso Castle Eh speriamo che non ci distrugge Ah perfetto Lui usa sempre questa tattica Perfetto raga Allora io mi posiziono qua sotto Così da non colpirmi nella parte Oh la vedi Perfetto Molto bene Allora Bastardo I droni di Guarda il drone di Twitch Un operatore alleato rimasto Difensori eliminati Missione fallita Si 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 Grazie per la visione